Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Aggredisce la proprietaria di un ristorante davanti a casa, Fanese arrestato dalla polizia Quando la crisi morde e le famiglie non riescono a pagare, a bellocchi di Fano un condominio a Erapa le prese con bollette e affitti Un mese fa l'attentato incendiario alla sede di Fano TV, le indagini della polizia proseguono serrate per individuare il colpevole Ombrellone sdraio, quanto mi costi, inizia il viaggio tra i concessionari di spiaggia alla ricerca delle tariffe più vantaggiose Parcheggia l'auto nello spazio riservato alle moto, il giorno dopo si ritrova la portiera dell'auto scritta con il pennarello Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, buon inizio settimana a tutti voi Questa è l'informazione locale sul canale 17, Occhio alla Notizia Cominciamo dalla cronaca, l'avete sentito poco fa dal sommario La proprietaria di un ristorante è stata aggredita da un uomo, un fanese Che adesso è stato arrestato dalla polizia Episodio di violenza, ieri sera in centro storico a Fano È successo in via Giorgi, intorno alle 21.30, quando un uomo di 41 anni, fanese Già noto alle forze dell'ordine, si è scagliato contro la proprietaria del ristorante Amo e Lievito Situato davanti alla sua abitazione, lanciandole una bottiglia di birra Immediato l'intervento della polizia, chiamata dalla donna, ma al loro arrivo L'uomo si è alterato maggiormente, aggredendo gli agenti Che, riusciti poi a fermarlo, lo hanno condotto in commissariato Non ancora ben note le cause che hanno spinto l'uomo a compiere il gesto Anche se si ipotizzano disaccordi e precedenti pregressi con la ristoratrice L'aggressore è stato processato stamattina per resistenza, violenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale Ed è in attesa della convalida dell'arresto, prevista per il mese prossimo La crisi, la crisi continua a mordere e toglie il sonno a molte famiglie A Bellocchi di Fano, in un condominio di case popolari, si cerca di scongiurare il distacco delle utenze Per una serie di arretrati non pagati Una segnalazione è arrivata, la nostra redazione ci ha portati a Bellocchi stamattina Per raccogliere l'appello di alcune famiglie che, in difficoltà economica, non riescono a sostenere le spese condominali Nel complesso abitativo dove risiedono Qui la situazione è grave perché non è che noi inquilini vogliamo essere morosi o non vogliamo pagare il condominio E che il condominio per delle persone poco abbienti, perché se no non stavamo negli alloggi popolari Non possono permettersi di pagare, per esempio come me, 250 euro di condominio mensili Io infatti sono molto indietro perché la mia situazione comunque Se potevo permettermi un condominio del genere sarei andata da un privato O sarei rimasta dal privato dove ero prima, oppure avrei acquistato un appartamento Ecco, non è che io non voglio pagare ma non questa cifra perché non ci riesco Perché da me entra un solo stipendio di mio marito che è operaio Ho due figli, uno maggiorenne che ancora non lavora, una bambina minorenne e io non lavoro Perciò non è che sono molto abbiente, io non è che non voglio pagare, ripeto Perché sembra che io non voglio pagare, però per me quella cifra è troppo alta Per questo sono rimasta molto indietro Prendo la minima, mia figlia adesso questi giorni ha perso il lavoro, lo riprenderà Però non si sa quando prende la paga, perché neanche in mese che lavora Quindi non so, il tempo ci è andato una settimana di tempo Se no vengono a staccare, fanno gli cifratti Noi purtroppo i soldi sono pochi, non ci basta neanche per mangiare Quando impagate le bollette, la luce, il gas, è un casino insomma Le case popolari gestite da ERAP che per definizione affronta il disagio abitativo di persone meno abbienti Rischiano di rimanere dal prossimo 26 aprile senza utenze A causa di morosità progresse nel tempo E questo rappresenterebbe un disagio ulteriore per le famiglie che si stanno impegnando in tutti i modi per rimediare a questa situazione Io ho perso il lavoro qualche mese fa e adesso ho iniziato un altro Almeno di darci il tempo di guadagnare due soldi per poter andare avanti Perché pagare 200 euro al condominio va bene che l'affitto non è esagerato Ma bollette, mangiare tutto, ha detto non ci stiamo dentro Perciò è una cosa un po' troppo esagerata secondo me Ci uniamo dunque al disagio di queste persone con la speranza che chi di dovere venga a loro incontro in un momento così difficile E cerchi di trovare una soluzione tenendo conto delle esigenze e soprattutto delle difficoltà di questi cittadini Io chiedo solo un po' di umanità, di aspettare, di pazientare Perché non siamo delle persone che possiedono dei grandi stipendi Non abbiamo niente, siamo apposta qui Che dire, di fronte a dichiarazioni come queste ci si interroga Se qualcuno ha qualche idea, se qualcuno può fare qualche cosa, lo faccia Un mese fa, più o meno a quest'ora, l'attentato alla nostra sede, l'attentato a Fano TV La polizia sta continuando le indagini senza sosta per assicurare il piromane alla giustizia Un mese fa esatto, alle 20.53, uno sconosciuto, incappucciato e avvolto coperto Con una tannica di combustibile tra le mani, si è avvicinato alla porta della sede di Fano TV Mentre stava andando in onda l'edizione del telegiornale Occhio alla Notizia Dopo aver cosparso della sostanza l'ingresso ed essersi assicurato che il liquido penetrasse all'interno della sede Gli ha dato fuoco, dopo aver creato una miccia di qualche metro per non subire il ritorno di fiamma del rogo Grazie alla presenza di tre ragazzi in zona che, a cortici delle fiamme, hanno avvisato subito polizie e vigili del fuoco I danni alla struttura sono stati limitati Per questo gesto sono tuttora in corso le indagini della polizia Ma ad oggi l'esecutore materiale del gesto e le sue motivazioni rimangono ancora avvolti nel mistero Domani il 25 aprile, 72esimo anniversario della liberazione Ecco le cerimonie previste in provincia di Pesaro Urbino Domani ricorre il 72esimo anniversario della liberazione d'Italia Dal gioco nazifascista durante la seconda guerra mondiana nel 1945 Come in ogni parte d'Italia, anche nella nostra provincia Si susseguiranno nei comuni soleni momenti celebrativi per ricordare anche a chi non lo ha vissuto In prima persona che cosa rappresentò per la nostra storia recente Quel passaggio che portò alla rifondazione dello Stato italiano A Fano, alle ore 10, verrà il ritrovo davanti alla residenza comunale Dove verrà deposta una corona sulla lapide dei partigiani caduti Poi il corteo si sposterà al monumento della resistenza nei giardini Biancheria e Morelli E al monumento alla resistenza nei giardini della Rocca Malatestiana Per la deposizione di due corone Come pure alle 11 avverrà in Viale Buozzi A seguire il corteo, il corpo bandistico Città di Fano Per l'occasione il bastione Sangallo resterà aperto per tutta la giornata A Pesaro il protocollo prevede, alle ore 10.30, la deposizione di corone Al sagrato di Piazzale Golinuccio e alla cappella di Sant'Ubaldo Poi attorno alle 11, 11 e 15 il picchetto d'onore e la banda di Candelara Con tutte le autorità cittadine daranno vita ad un corteo fino al monumento della resistenza Dove verranno deposte corone di alloro con saluti ufficiali Alle associazioni combattentistiche ed arma e ampi In Urbino il cerimoniale si presenta il medesimo Ore 10 ritrovo davanti al comune, dopodiché seguirà la deposizione di corone Con sottofondo musicale dell'orchestra di Fiati di Urbino La conclusione delle celebrazioni avverrà alle 11.30 Nel cortile del collegio Raffaello per un concerto dell'orchestra Fiati Si terranno domani i funerali del campione di ciclismo Scarponi Saranno celebrati dal cardinale Edoardo Menichelli, arcivescovo di Ancona Osimo I funerali di Michele Scarponi appunto in programma alle 15.30 Nel campo sportivo di Filottrano Cambiamo argomento Negli stabilimenti balneari di Fano si stanno intensificando i lavori Per la nuova stagione estiva che è alle porte Stabilimenti balneari di Fano, prove tecniche di stagione Il caldo di questi giorni aveva fatto pensare ad un avvio stagionale anticipato Ma poi l'ingresso dell'aria fredda nel settore adriadico ha rimesso tutto a posto Ma gli operatori balneari hanno da tempo comunque iniziato a lavorare sulle proprie concessioni Per presentarsi in ordine all'appuntamento con i propri clienti Qualcuno è un po' più avanti, qualcuno meno Ma chi ha iniziato da tempo può già pensare a una giornata inaugurale Ecco, sui costi, sulle tariffe allineate all'anno scorso? Sì, le tariffe sono allineate al prezzario di anno scorso Per cui non ci sono stati aumenti La Sassonia ha comunque un suo tariffario Per cui quello è regolare per tutti Lasciamo senza aumenti perché quest'anno è giusto così Niente ritocchi quindi nel settore della Sassonia Quello che raggruppa il maggior numero di concessioni in zona Ma vediamo nel dettaglio Quest'anno chi verrà in Viale Adriatico per un ombrellone stagionale Spenderà 260 euro e 170 euro è il costo di un lettino sempre stagionale Nessun rincaro nemmeno per le tariffe giornaliere 7 euro per un ombrellone e 6 euro per un lettino Bagnini in fermento dunque tra conferme di clienti stagionali E l'annuncio di qualche nuovo arrivo Abbiamo sempre i soliti Nel senso che la nostra clientiera fisso ormai ci segue da anni E in più abbiamo visto che inizia ad arrivare anche gente D'altre spiagge, inizia ad esserci più richiesta E dovremmo infatti adesso vedere dove piazzarli Dove metterli tutti Speriamo di riuscirci Comunque sia nelle spiagge non si stanno soltanto preparando lettini e ombrelloni Si sta pianificando tutta l'attività di intrattenimento e di accoglienza E non mancano certo le novità Tendenze ce ne sono tante Cioè dal benessere fisico, al benessere psicologico Al discorso per i bambini Avremo intenzione di fare anche delle attività didattiche per i bimbi Poi ci sono cose per i grandi, aperitivi, appuntamenti a tema Abbiamo tante cose in programma Passaggi Festival è il festival della saggistica che si tiene a Fano nel mese di giugno E questa mattina gli organizzatori hanno annunciato che quest'anno ci sarà una partnership molto importante Che altro non è che la TV di Stato E non tutti condividiamo Credo poi un'altra cosa Passaggi, il festival della saggistica di Fano è l'unica manifestazione nelle Marche a poter vantare come media partner la RAI Rafforzata così la partnership che oltre alla riconfermata presenza di RAI News 24 Grazie alla disponibilità del direttore Di Bella Che pur tra mille impegni ha assicurato la sua presenza alla manifestazione Si aggiunge la radiofonia che intercetta diverse fasce di utenza RAI 3 e Isoradio quindi saranno i megafoni nel lettere del festival in questa edizione 2017 Torna Isoradio che aveva fatto una cosa tre anni fa con noi però in modo più ampio Il canale di pubblica utilità servirà per spiegare che cosa faremo a Fano Radio 3 è la migliore esperienza culturale radiofonica forse non solo italiana RAI News è l'all news della RAI quindi è il luogo dove c'è maggiore spazio per raccontare quello che accade E' importante raccontare Fano, raccontare le marche come altre regioni colpite dal terremoto Perché qui il terremoto non ha fatto danno però il rischio era quello di vedere meno turisti arrivare Il fatto che la RAI si spenda per spiegare che nel centro Italia si può andare e si sta molto bene è un elemento in più Se poi si arriva per vedere l'unico festival di saggistica italiano è ancora meglio Una componente importante del festival è il premio Passaggi che viene sempre attribuito a personaggi di spicco del mondo giornalistico e letterario Sì, noi assegniamo annualmente il premio Barbato che è stata una delle migliori firme del servizio pubblico La famiglia ha deciso di unire il nome di Andrea a quello del festival e quest'anno premieremo Ezio Mauro Che è stato direttore per quasi un ventennio di Repubblico, un analista di ciò che accade nel mondo Poi assegniamo un premio Passaggi a chi si distingue per la propria professione giornalistica, di scrittore, di saggista Siamo particolarmente contenti di assegnarlo quest'anno a Gianni Minà Che è la storia non solo della RAI ma del giornalismo italiano Non esistono scorciatori E adesso parliamo del cactus Nel mondo ce ne sono circa 3.000 specie Noi in un terrazzo a Calcinelli o meglio Coglie al Metauro ne abbiamo scovato uno, pensate, alto due metri Saranno forse i cambiamenti climatici in atto O magari semplicemente le cure che il proprietario gli dona da otto anni Fatto sta che passando per Calcinelli in direzione Saltara Ci si può imbattere in un esemplare di cactus alto più di due metri Che rappresenta per Vasilis, un simpaticissimo signore di origine moldava Ma che da tempo vive qui, un motivo di orgoglio Ho preso questo cactus, la fiera di fiori la fanno Piccolo piccolo perché a noi troppo piace il cactus Io ho preso e ho cresciuto, ho cresciuto, ho visto lui crescere e sempre ho dato acqua Queste piante caratterizzate dalla presenza di acqua all'interno e spine al posto delle foglie Possono raggiungere altezze molto importanti Da un centimetro fino a quasi 20 metri Con fiori grandi che di solito fioriscono di notte Perché impollinati da insetti notturni come falene e pipistrelli Sì, sempre così fuori inverno come adesso Non ho paura a gelato Solitamente si adattano a temperature molto alte e climi aridi Ma l'esemplare di Vasilis resiste anche l'inverno E per evitarne la rottura è stata creata appositamente una sorta di impalcatura di sostegno Che lo sostiene ben eretto, svettando sulle strade cittadine Sì, qui sta ho messo perché lui è troppo alto e posso casca A qui sta braccia sempre perché c'è fiori grandi e molto E quando l'orano pisante si rompono Qui prima ho stato sempre braccio Eccolo qui Io ho avuto 18 fiori e quando ho dato fiori si rompono E io adesso ho messo questo fermato così più forza E allora fatte le dovute raccomandazioni per evitare di pungersi o di traumatizzare la pianta Tutti a Calcinelli per un selfie col cactus In caso di dire che ha il pollice verde Poi Calcinelli deve avere un'aria particolare Perché comunque mi risulta che ci sia anche una bougainville Che è alta 4-5 metri Che è straordinaria Magari ve la faremo vedere nei prossimi giorni Adesso invece guardate queste fotografie Parcheggiare l'automobile negli spazi riservati alle motociclette Può portare a conseguenze poco piacevole E quando a pensarci non sono i vigili magari con una contravvenzione Ma un anonimo residente oppure un vicino di casa Le cose allora si fanno un po' più seri Guardate che cosa è successo ad un signore di Fano Che avrebbe parcheggiato la sua auto negli spazi dedicate alle motociclette L'indomani mattina si è ritrovato la portiera della macchina Con un messaggio scritto con un pennarello Ed è successo per ben due volte La prima risale al 7 aprile su quest'auto bianca Mentre la seconda è successa due settimane dopo Il 23 aprile sulla portiera di un'altra automobile Questa volta azzurra Il proprietario ha denunciato tutto pubblicamente Mettendo le fotografie su Facebook Suscitando non solo curiosità ma anche rabbia tra gli amici E se nel primo post il proprietario ha semplicemente commentato Questo per iniziare la giornata Una persona che mi adora Nel secondo post, quello di pochi giorni fa Il tono era decisamente cambiato e più arrabbiato E ha scritto Colpisce ancora, presto lo prendiamo E come era prevedibile Giù una marea di commenti, consigli e proposte di aiuto Ed è solo sport con Matteo Del Vecchio Finisce senza vincitori né vinti il match del Mancini Valido per la 36esima giornata del campionato di Lega Pro Tra Alma, Juventus, Fano e Modena Un risultato che fa sorridere gli ospiti Che con il punto conquistato fanno un bel passo in avanti Verso la salvezza A differenza dei Granata Che ormai vedono praticamente svanire la possibilità di evitare i play-out L'importanza della posta in paglio si sente Soprattutto nei primi minuti E fatta eccezione per qualche conclusione da fuori area degli ospiti La gara viaggia sui binari dell'equilibrio Senza particolari sussulti Con i padroni di casa che non riescono a scardinare le maglie della difesa canarina Per la prima azione degna di nota del Fano Occorre attendere il nono della ripresa Quando Gabbianelli, su sponda di Melandri Impegna Manfredini che con un prodigioso tuffo Riesce ad evitare il vantaggio fanese L'estremo difensore giallo-blu Si ripete un minuto più tardi sull'ex Parma Melandri Ma non può nulla al ventesimo Quando Fioretti insacca di testa su cross di Zullo Gol annullato però dalla terna arbitrale Per un fuorigioco apparso dal campo molto dubbio Succede poco o nulla nei restanti 25 minuti di gioco E l'Alma ora è chiamata all'impresa domenica prossima Sul campo del Lumezzane Per cercare quantomeno di guadagnarsi le posizioni migliori Nella griglia play-out In classifica infatti I ragazzi di Cuttone sono penultimi a quota 32 A meno uno dallo stesso Lumezzane e dal Forlì Alle spalle dei Granata Non è stata solo l'Ancona che in questo momento sta giocando il posticipo sul campo del Padova E che se dovesse arrivare la penalizzazione per il mancato pagamento degli stipendi Sarebbe già con un piede e mezzo tra i dilettanti Dal calcio passiamo al calcio a 5 Con le ragazze del Flaminia Fano Che ieri hanno iniziato il proprio cammino nei play-off promozione Che dalla Serie A potrebbero portarle alla Serie A d'Elite L'inizio è di quelli che fanno ben sperare Con le ragazze di Alessandro Imbriani Corsare sul campo del San Pietro Bozzolo per 4-3 Le reti di Borgogelli, Letizzi, Falcioni e Fatica Che ribaltano l'iniziale 2-0 delle Mantovane Consentono alle Bianco-Azzurre di guardare con cauto ottimismo Al match di ritorno in programma domenica prossima a Fano E c'è un'altra squadra fanese che ha esultato nell'ultimo weekend Ed è l'Ise Infissi Virtus Volley Che con la propria formazione maschile di Serie D Ha centrato la promozione dopo un'annata praticamente perfetta Il 3-2 sul campo della Belvederese Ostrense Salutato da un folto pubblico di marca fanese Esploso di gioia al punto decisivo di Gianluca Guccioni È il coronamento di una stagione che ha visto i ragazzi di Sorcinelli Conoscere la sconfitta solo in 5 occasioni Un ruolino di marcia che ha così portato Alla seconda promozione consecutiva in due anni Grazie a questo salto di categoria Sono due le formazioni virtussine Che il prossimo anno giocheranno in Serie C Anche se nell'ambiente pallavolistico fanese Si sta già lavorando per acquisire i diritti di partecipazione Alla Serie B nazionale Bene, complimenti Allora mi raccomando tutti quelli che vogliono mandarci informazioni Notizie di carattere sportivo La nostra email è sport.fano.it Cominciate a prendere l'abitudine anche a girare filmati Tanto ormai siete tutti e siamo tutti bravi A realizzare filmati con il cellulare E vengono anche degli ottimi prodotti Quindi mandateci, riprendete le imprese dei vostri ragazzi E poi fatecele avere accompagnate dalle informazioni Allora, Pesaro terra di piloti e di motori E sembra portare fortuna a Rossi, Morbidelli e Fenati Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci All'indomani del Gran Premio delle Americhe Scrive Grazie ai ragazzi Vale Rossi infinito E di nuovo al comando della classifica MotoGP Franco Morbidelli domina in Moto2 Ed è terzo centro consecutivo Romano Fenati Trionfa in Moto3 Con il team pesarese Morbidelli Rivacold Snippers Non che ci fossero dubbi Ma anche negli Stati Uniti si è capito che cos'è la terra dei piloti e dei motori Un patrimonio unico al mondo Che vogliamo continuare a valorizzare Anche in chiave turistica Ha concluso il sindaco di Pesaro Matteo Ricci Bene Ci fermiamo qui È tutto per l'informazione Vi ricordo che il 338 4968 250 è a vostra disposizione per le segnalazioni Ci vediamo domani mattina alle 7.30 con Occhio e Giornali La Rassegna Stampa di Fano TV Arrivederci La Rassegna Stampa di Fano TV